Musica Presso la pensilina Liberty di Taranto ho incontrato dei turisti. Da dove vengono? Da Kielce, in Polonia. Viene dalla Polonia. Sì, sono in vacanza. Quanti giorni sei qui? Da due giorni sta qui. Hai visitato il Museum Kastel? Non ho visto ancora. Ancora non l'ho visto. Quindi, cosa pensi di Taranto? La città sembra bella, ma... Bella, bella, ma è molto, molto freddo. Non lo so, ma siamo arrivati a Taranto in treno. Non lo so. E cosa pensi di che Taranto sia freddo? Non è buono. Non è freddo come la Kielce. La Kielce è più freddo, ma le persone sono più amici. Ecco, dice che la Polonia, la sua città, come si chiama? È detto la città? In inglese, per favore. La tua città? La mia città? È Kielce, sì. Che non conosco bene questa città della Polonia, però dice che, in effetti, è pulita. È pulita e qui invece abbiamo queste cose, è un vero peccato. Questo è il primo sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci. Presidente del sindaco di Taranto, ma... Rinaldo, Taranto è freddo. Sì, è freddo, è freddo. Dicami, Rinaldo, il Taranto è freddo. Il Taranto è freddo. Vedi, Rinaldo, lo dicono anche i turisti. Ora, a parte gli scherzi, signori, abbiamo una bellissima città. Ma che peccato, che brutta figura che dobbiamo fare con i turisti, i quali dicono è una città bellissima, però è anche davvero sporca. Buona fortuna, ragazzi. Come si fa Luigi? Sì, mi piace Luigi. Buona fortuna. Buona fortuna. Grazie, buona fortuna.